A meno di 24 ore dal violento incidente di martedì poco dopo il casello di Villa Bona quando un tir è piombato sulle auto ferme in coda in cui ha perso la vita un settantenne di Salzano, questa mattina si sono verificati altri due incidenti di cui uno mortale. Sull'autostrada a quattro nel tratto fra la Tisana e Porto Gruaro. Erano circa le 7 e 30, un 41enne di nazionalità rumena a bordo di un furgone ha tamponato una cisterna. Per lui non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo, troppo gravi traumi riportati. Il secondo invece è stato un tamponamento fra mezzi pesanti, uno sloveno l'altro croato, avvenuto a causa della coda che si era formata in seguito al primo incidente. Uno degli autisti rimasto incastrato nell'abitacolo è stato liberato dai vigili del fuoco di La Tisana e Porto Gruaro e soccorso dall'elicottero di Udine. Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche una 27enne croata. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, i soccorsi meccanici per liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. L'autostrada 4 è stata chiusa fra La Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Gli incidenti hanno causato molti problemi alla circolazione. Alle 9 e 30 infatti si registravano 9 chilometri di coda nel tratto La Tisana-Porto Gruaro. 8 invece fra San Giorgio e La Tisana in direzione Venezia con code anche Fra Cessalto e La Tisana nella direzione opposta. Grazie a tutti.